io sono qui perché sono ho promosso qualche mese fa un appello per la rinascita della sinistra che giudicavo in stato comatoso in questo nel testo dell'appello che poi è andato avanti e la conclusione prossima sarà la partecipazione all'assemblea di Roma del nove luglio in questo appello io rimproveravo alla sinistra di cui credo di far parte eh di aver obliterato la questione meridionale come una delle gravi colpe della sinistra e quindi mi fa piacere che qui oggi ad Eboli un luogo simbolico evidentemente eh si si tenti in qualche modo di rimettere al centro della nostra attenzione proprio la questione meridionale naturalmente nei minuti che vengono concessi è difficile eh fare qualunque argomentazione del resto abbiamo sentito già un catalogo di problemi eh se ci fosse stato tempo naturalmente avremmo potuto dovuto aspettarci anche un catalogo di proposte per affrontare i problemi che sono stati rubricati qui sarà forse compito di un secondo tempo di spero che questo sia solo se ne canto e più no? Spero eh e ieri è stata usata l'espressione molto efficace di una rimozione della questione meridionale effettivamente questa rimozione viene da lontano cioè è dalla fine degli anni ottanta che legioni di sociologi ci hanno detto che ormai la centralità eh del problema politico in Italia non era più quella della questione meridionale ma bensì della questione settentrionale e da allora si è proceduto appunto c'è stata la preparazione diciamo così teorica a quello che abbiamo poi eh visto sotto i nostri occhi che sono stati i temi che sono stati proposti già ieri e oggi qui eh in questo in questo nostro raduno e c'è un'accelerazione drammatica ed anche questo è stato in qualche modo già proposto qui alla nostra attenzione eh negli ultimi negli ultimi anni negli ultimi mesi settimane è stato già rilevato come gli effetti della guerra sul mezzogiorno saranno più pesanti che sul resto d'Italia è stato sottolineato il tema della sanità in Italia continuano i viaggi della speranza no dal sud verso il nord cercando di ridurre i tempi di attesa che sono diventati ehm assolutamente geologici è stato anche accennato al fatto che il cambio climatico è stato posto più volte anche negli ultimi interventi il cambio climatico nel sud ha effetti più devastanti e il tema eh maledetto tema della cosiddetta autonomia differenziata che significa appunto la cosiddetta secessione dei ricchi è un modo per dimostrare che non solo ormai in Italia esistono due costituzioni la costituzione cosiddetta formale quella scritta quella approvata eh realizzata tra le quattasei quarantasette entrate in vigore primo giornale quarantotto che viene messa in una specie di teca come il sangue di San Gennaro davanti al quale il presidente della Repubblica si genuflette salvo poi tradirla minuto dopo minuto tutti i giorni tutti i giorni in maniera pazzesca nel silenzio generale perché il primo a tradire la costituzione è il nostro presidente della Repubblica che dovrebbe invece difenderla questo va detto e va sottolineato non solo dunque esiste una costituzione formale viene chiamata formale e poi una costituzione detta materiale che è una non costituzione no che praticamente è la eh è ciò che si fa e ciò che si fa per così dire no e quindi all'ombra della costituzione materiale si commettono le peggiori nefandezze e si eh straccia la costituzione cosiddetta formale ma non solo noi abbiamo stiamo assistendo alla costituzione di una realizzazione di una doppia cittadinanza c'è una cittadinanza piena che è quella del nord dei cittadini e delle cittadine del nord e c'è una cittadinanza dimediata per così dire a metà che è quella che viene concessa o per così dire al agli uomini e le donne del sud ecco davanti a questo noi dobbiamo veramente fare testugine a resistere resistere e rivoltarsi per così dire perché questo è assolutamente inaccettabile eh avrei voluto sentire qualche proposta in più sul da farsi però appunto il tempo non c'è però le butto lì una e io credo che oggi la questione fondamentale del sud sia la questione giovanile e allora perché si parla di rappresentanza io credo che forse potremmo riabilitare il nobile strumento dell'inchiesta perché non mettiamo su delle inchieste dedicate ai giovani interpelliamo i giovani del sud regione per regione provincia per provincia in questo raduno sono coinvolte tante forze perché queste forze non si fanno parte dirigente per organizzare delle inchieste in cui vanno a chiedere ai giovani quali sono i problemi che oggi affrontano e i problemi che li hanno allontanati dalla politica e quindi la seconda proposta è riattivare un'altra nobile istituzione che oggi è perduta le scuole di formazione politica dedicate ai giovani scuole di formazione politica per rimotivare i giovani ridare quell'entusiasmo di cui parlava Luigi De Magistris perché se non andiamo a smobilitare i giovani noi non ce la facciamo e questo l'ho visto anche nella campagna elettorale a Torino soprattutto i giovani che ci hanno abbandonato diciamo la verità allora se dobbiamo parlare di rappresentanza dobbiamo parlare di rappresentanza giovanile e quindi dobbiamo parlare di rimotivazione dei giovani e ridare a loro quell'entusiasmo perché la politica innanzitutto passione e abbiamo bisogno di riappassionare i giovani alla politica e quindi senza dimenticarci insomma in fondo che siamo sempre a quel porro unumet necessario come scriveva Guido Dorso 1925 Piero Gobetti di Torre la rivoluzione meridionale la rivoluzione italiana o sarà meridionale o non sarà grazie